Come lo vuoi il caffè? Stretto o lungo? Cosa vuoi fare? Uscire o dormire? Chi te l'ha detto che sono uscito? Perché non vieni anche tu con noi? Quanto costa questa giacca? Quando torna Enrico da Milano? Quale sarà la scelta di Mario? Dove ha messo le chiavi Gianni? Cosa hai detto a Michele? Come facciamo ad andarcene? Cosa succede domani mattina? Chi ti ha salutato al concerto? Perché non andiamo a mangiare? Quanto tempo avete per finire? Come facciamo ad andarcene? Come facciamo ad e ring a rindver! ! Ecco questo insろ Cuba! E qui è un colore? Come facciamo achezila! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.